Bene, parliamo in questo capitolo di un gruppo di materiali che vengono normalmente aggiudicati al gruppo dei diaspori agate, che però si formano per disequilibri fra il diasporo e l'agata, cioè il diasporo e il calcedonio. Bene, sappiamo già che l'opale può trasformarsi in un opale più cristallina, l'opale CT, e da questa produrre dei diaspori e le selce. Questo è un processo ben conosciuto in geologia che abbiamo visto nel primo gruppo dei diaspori oceanici. Abbiamo visto però anche che la stessa opale CT, che si può formare per precipitazione diretta da soluzioni, può trasformarsi anche in calcedonio e abbiamo visto come in questa maniera si formano i calcedoni colorati, come il crisoprasio e la gemsilica, tutti i calcedoni o in colori o comunque i calcedoni senza inclusioni, e anche le agate bacon, che sono quelle agate che si formano dalla trasformazione dell'opale che si origina nei geyser, nelle sorgenti termali. Quindi abbiamo che l'opale CT, cioè l'opale più cristallina, si può trasformare sia in diasporo che in calcedonio. Quindi possiamo vedere un diagramma di questo tipo. Diciamo che l'abbiamo chiamato un diagramma di disequilibrio. L'opale, il diasporo e il calcedonio sono le tre fasi della silice microristallina che abbiamo analizzato. L'opale può decadere, trasformarsi in diasporo o in calcedonio, secondo le reazioni che abbiamo visto, perché è amorfo, quindi tecnicamente è un vetro, è come il vetro di vulcanici, è instabile. Mentre il diasporo e il calcedonio sono più cristallini, più stabili. L'opale è molto facile che in natura si rompa, si disidrati, si trasformi in qualcos'altro, o entra in soluzione nelle acque correnti, oppure venga trasformato in calcedonio e un diasporo. Cosa succede in questa zona del triangolo? È possibile che ci siano dei passaggi fra calcedonio e diasporo? Abbiamo già visto che nel caso dei diaspori brecciati esiste in qualche maniera un fenomeno per cui il diasporo, mano a mano che si frattura, si aprono delle vene e vengono riempiti da calcedonio. Quindi un blocco che originariamente era costituito da diasporo puro, viene mano a mano trasformato in un oggetto costituito da calcedonio con dei frammenti di diasporo sospeso. Ecco, questo è, diciamo, un esempio di disequilibrio. Però abbiamo visto anche che diasporo e agata, nei diaspori agata, nel gruppo che abbiamo chiamato diaspori agata di precipitazione chimica diretta, sono due materiali molto vicini e possono in alcuni casi coesistere. Quindi la differenza chimica praticamente non esiste, la differenza della forma cristallina, cioè della struttura cristallina, è abbastanza poca per cui ci può essere passaggio da una a quell'altra. Andiamo a vedere dove possiamo avere degli esempi in cui ci siano disequilibri e quindi passaggio da diasporo a calcedonio diretto. Ecco, un materiale dove si possono vedere chiaramente questi fenomeni è il polkadot. Il polkadot è un materiale dell'Oregon. Il polkadot è un nome dato perché è caratterizzato da queste sferette marroni e però viene chiamato agata, anche se in genere è opaca e ha comunque delle strutture da ferro ossidato, delle strutture come da diasporo, paesaggio. Quindi l'aspetto è quello di un diasporo, però ha delle zone trasparenti che gli danno il nome di agata. Questi dots li abbiamo già visti e sono delle strutture che si formano tipicamente negli opali. Non sono una struttura molto comune nel calcedonio, sono una struttura più da opale. e comunque sono degli aggregati di ferro ossidato. Anche queste strutture paesaggio sono delle strutture che si formano sui bordi dei blocchi, però in questo caso stiamo parlando di blocchi di diaspora. Quindi i dot e queste strutture paesaggio si formano in ambienti diversi. Ecco, questo campione di polkadot mostra chiaramente ancora la struttura del diasporo chimico primario, cioè questa laminazione, così con la concavità verso il basso dovuta a perdita di liquidi, è una laminazione che abbiamo visto che è tipica dei diaspori per precisazione chimica diretta. La struttura della foto anteriore, queste qui, sono più tipiche di diaspori del tipo stratiforme che si originano sui banchi di tuffi vulcanici. Quindi il diasporo originario probabilmente è possibile che fosse di due tipi diversi, però questa zona del giacimento ha subito delle trasformazioni sia i diaspori di un tipo che di un altro, delle trasformazioni per cui da strutture di diasporo primarie si passa ad avere delle zone di calcedonio più o meno trasparente con questi dot all'interno. Quindi è possibile che ci siano due diversi tipi di diaspori nel nostro giacimento, però i fenomeni secondari che hanno trasformato il diasporo e hanno creato queste porzioni di calcedonio sono comuni a entrambi. Quindi, intanto, abbiamo capito che questo in origine era un diasporo e il calcedonio viene dopo. Ecco, se guardiamo in alcuni campioni vediamo che ci sono delle zone di dissoluzione, addirittura in alcune ricristallizza il quarzo, quindi c'è stata sicuramente una dissoluzione o perlomeno parziale di questo diasporo che ha, diciamo, rammollato il diasporo che poi in certe zone è stato drenato. Questo rammollamento, questa trasformazione di diasporo in un qualcosa di più liquido, più colloide, viene visto, si può capire anche dal fatto che i dot, che probabilmente erano più resistenti perché vediamo che non sono stati disciolti, in questo caso sono stati accumulati alla base di questa zona di dissoluzione. Quindi, cosa succede? C'è un fenomeno che rammolla il diasporo che può eventualmente anche portarlo via. In più, questi dot, che sono la prima parte che si indurisce da questo colloide e possono, se c'è una diluzione sufficiente per cui questo colloide viene portato via, questi dot possono subire fenomeni gravitativi e andare sul fondo. In questo strano campione vediamo che c'è stato un rammollimento di questo diasporo e non si capisce esattamente però sembra che si siano formati dei dot in questa zona e che poi in qualche maniera sono stati spinti fuori e hanno fatto questa specie di microeruzione e quali che siano le quali che siano l'interpretazione di questo campione è chiaro che c'è stato un momento in cui questo diasporo era più più tenero, più più liquido era non proprio liquido ma era una soluzione densa in cui venivano dei fenomeni all'interno si formavano questi questi dot questi puntini vediamo questi sono dei dot di un opale di carretaro che sono uguali a questi dot del del polka dot e vediamo che i puntini sono in genere immersi in un calcitrano trasparente quindi il diasporo si è diciamo sciolto si sono formati i dot in un materiale che probabilmente era simile all'opale questo opale ct e poi si è rindurito tutto però in certe zone si è rindurito come calcio d'onio abbastanza limpido in altre zone la diluzione è stata troppo troppo importante in certo punto si è stata la dissoluzione e si sono create queste cavità quindi possiamo ricostruire la storia di questo polka dot di questo materiale in questa maniera il diasporo primario originale può essere sia chimico che vulcanico stratiforme a seconda di questi due campioni non conosco personalmente il deposito quindi non posso dire però diciamo che ho visto campioni con strutture di entrambi i tipi questo diasporo si dissolve si trasforma in una soluzione coloridale densa quindi non liquida però abbastanza plastica in modo da permettere dei fenomeni all'interno all'interno infatti si formano questi dot una ulteriore diluzione provoca la formazione di queste cavità cioè porta via delle porzioni di colloide e provoca il movimento dei dot quindi c'è stata una seconda fase di diluzione ulteriore a un certo punto cristallizza il calcedone e il diasporo si risolidifica quindi passiamo da diasporo a calcedonio passando per un materiale intermedio colloidale e le tracce di questo fenomeno sono lasciate da questi campioni che mi danno sia i dot che queste cavità il risultato è un materiale che ha sia caratteristiche da diasporo sia caratteristiche da calcedonio un altro materiale molto simile al polka dot si chiama parral agate parral viene dal Messico da una località che si chiama parral ed è un diasporo molto simile al polka dot che però anch'esso ha delle cavità e dei dots come il polka dot e delle zone di porzione di calcedonio trasparente però in più ha anche delle dendriti tridimensionali le dendriti tridimensionali come abbiamo visto si formano evidentemente non in una fessura ma essendo tridimensionali si formano in un colloido o in un liquido quindi è un'ulteriore prova che questo materiale al principio costituito del diasporo è passato per una fase colloidale questi dendriti di manganese concentrano il manganese che era probabilmente presente nel diasporo sappiamo che i ferro e manganese danno la colorazione non sono indotti a formare dei muschi o delle plume mentre il passaggio a calcedonio o a pale o diciamo nella fase colloidale il manganese si concentra a formare delle dendriti e il ferro si concentra a formare questi dot dopodiché si ha anche qui il rendurimento e le zone dove ci sono i dendriti più belli saranno anche quelle con il calcedone più trasparente perché la diluzione è stata più importante altri materiali ambigui sono per esempio l'agata payout dell'oregon che anche in questo caso viene chiamata agata perché ha all'interno delle dendriti ma in realtà è un diasporo chiaramente vediamo che è un diasporo stratiforme a blocchi ha delle strutture paesaggi tutto intorno al blocco però il rammolamento è evidente perché su queste superfici di dune diciamo si sono formati questi dendriti che sono dendriti tridimensionali ecco un altro materiale molto conosciuto molto importante per la produzione di oggettistica è il diasporo ceno uno dei più bei diaspori che si è mai stati scoperti negli ultimi anni in Madagascar il diasporo ceno abbiamo visto che si forma per trasformazione di un'ossidiana e ancora vediamo evidenze delle linee di flusso della lava e su cui si sovrimpone queste strutture sferolitiche che sono il risultato della devitrificazione del vetro vulcanico quindi questa è l'origine di cui ne abbiamo parlato a lungo nel capitolo dei diaspori reolitici però queste sferuliti nel diasporo ceno rispetto ai diaspori reolitici sono più bandate per questo i diaspori di questo tipo vengono chiamati diaspori orbicolari queste sferulite hanno tutto l'aspetto di agate con le bande molto simili delle agate bandate però invece di crescere dai bordi della cavità verso l'interno crescono da un punto verso l'esterno quindi la banda più antica è quella all'interno e l'ultima banda è quella diciamo fuori in certe zone queste sferuliti bandate sono immerse in un calcedonio trasparente e quindi anche qui abbiamo un materiale ambiguo chiaramente è un diasporo chiaramente l'origine è da devietrificazione sappiamo che la devietrificazione nella maggior parte dei casi trasforma il materiale in diasporo passaggi intermedi c'è la cristobalita eccetera però alla fine quasi tutte le ossidiane alla fine della sua storia vengono trasformate in diasporo mentre in calcedonio no però alcune zone del diasporo sono traslucide sono costituite da calcedonio ecco vediamo in questo campione dove chiaramente c'è una porzione di diasporo dove si vedono le sferuliti originali immerse nel diasporo e queste sferuliti anche se in realtà anche qui ci sono più generazioni di sferuliti però diciamo che le sferuliti originari che probabilmente sono queste rosa sono non bandate o pochissimo strutturate ecco nella zona che ha subito la ricristallizzazione in calcedonio invece le sferuliti sono bandate e sono appunto immerse nel calcedonio in queste zone addirittura in certi casi può cristallizzare il quarzo quindi all'interno del calcedonio quindi sospese nel calcedonio quando questo era nella fase colloidale c'è stato un'epoca in cui le sferuliti sono riuscite a svilupparsi e a crescere rispetto a quelle piccole originali ecco le sferuliti possono diventare anche molto grandi e ho visto nel diasporo c'erano sferuliti fino a 3-4 cm e spesso alcune di queste sferuliti hanno una banda di quarzo verso l'esterno vediamo questa è una foto a Nicola incrociata vediamo chiaramente che questa è la porzione di quarzo all'interno queste bande sono molto simili alle bande delle agde bandate e sono in realtà identiche alle concrezioni di calcedonio che abbiamo visto con crescita delle bande dal centro verso l'esterno e il quarzo che nella maggior parte dei casi blocca la crescita di questa concrezione che è l'ultima cosa che cristallizza una volta che questa concrezione è coperta di quarzo se si ritrova all'interno di altre soluzioni ricche in silice la silice viene catturata dal quarzo prima che la soluzione possa diventare colloidale quindi è molto difficile dopo la banda di quarzo ricominciare col calcedonio e lo stesso succede all'interno di queste porzioni del diasporo cerno che sono in genere le più belle esteticamente che hanno le sferuliti molto grandi bandate con il quarzo verso l'esterno in questo campione addirittura vediamo che ci sono delle grosse sferuliti costituite completamente da quarzo cioè gli sferuliti hanno subito una totale ricristallizzazione è probabile che queste sferuliti siano molto simili a quelle della foto perché vediamo che anche qui all'interno c'è quarzo cristallino non ci sono bande però il colore di questo cristallino è quello del diasporo quindi c'è stata successivamente una pseudomorfosi del quarzo in diasporo quindi abbiamo un diasporo primario che si rammolla e si passa colloidale nella fase colloidale le sferuliti crescono fino ad arrivare a una diluzione sufficiente per far cristallizzare del quarzo dopodiché questo quarzo può retrocedere e venire pseudomorfizzato un'altra volta e tornare al diasporo quindi la storia del diasporo ceno in certe porzioni è abbastanza complessa ecco vediamo che le sferuliti sono corpi separati dal diasporo e in questo caso sono sferuliti immerse nel salcedonio e sono dei corpi completamente strani mentre nel caso dei diaspori riolitici sarebbe impensabile staccare una sferulita dal diasporo perché sono costruiti dello stesso materiale nel diasporo ceno tipicamente si separano e se si toccano se vengono in contatto formano queste strane strutture di deformazione come se fossero delle bolle di sapone indicando che c'è stato un momento in cui queste sferuliti erano abbastanza tenere diciamo plastiche da poter perdere la loro struttura sferica e deformarsi in questa maniera quindi non sono più le sferuliti originarie che si sono formate per devitrificazione dell'ossidiana sono corpi già separati che hanno subito una lunga storia di disequilibrio e di ricristalizzazione quindi ricostruendo quello che può essere la storia del diasporo oceano abbiamo in origine un'ossidiana che per devitrificazione ha creato un'ossidiana sferulitica come questa che è un'ossidiana fiocco di neve dall'ossidiana abbiamo il passaggio a diasporo questo è il processo che abbiamo già visto per tutti i diaspori erolitici e orbicolari dopodiché se il diasporo si trova in disequilibrio si dissolve in una soluzione colloidale che però non dissolve tutto il corpo del diasporo tutta la colata se no solo delle porzioni infatti ci sono delle porzioni di calcitonio a contatto con delle altre porzioni che sono rimaste più o meno invariate in questa soluzione colloidale crescono le sferuliti e si strutturano e diventano bandate una ulteriore diluizione nella stessa maniera che come abbiamo visto nel polkadot provoca la cristallizzazione del quarzo però poi parte del quarzo viene nuovamente trasformato in diasporo quindi dopo l'indurimento abbiamo dopo l'indurimento del quarzo che il quarzo cristallizza abbiamo un'altra volta che le condizioni chimiche retrocedono a quelle originarie quindi vediamo che come il polkadot anche il diasporo ceno è un processo multifase ecco adesso proviamo a passare al processo inverso il processo inverso sarebbe di cercare alcuni depositi alcuni campioni in cui il calcedonio si trasformi in diasporo abbiamo trovato un materiale molto bello che è l'agata del Canadian River nel nord del Texas che è un'agata plume con plume di grandi dimensioni molto strutturate spesso strutturate in strati questo blocco misura più di 50 cm quindi vediamo che ci sono perlomeno tre strati di plume molto belle però queste plume sono immerse nel diasporo allora noi abbiamo visto nel capitolo dei calcedoni con inclusioni che è una prerogativa del calcedonio quello di formare muschi e plume e abbiamo visto che nei diaspori chimici queste strutture non si formano e quindi qui saremmo in un caso che fa l'eccezione in realtà non c'è nessuna eccezione queste plume si sono formate nel calcedonio e ci sono parecchie strutture che lo dimostrano però questo calcedonio poi si è trovato in disequilibrio e si è trasformato in diasporo la plume vera e propria non è cambiata più di tanto però il calcedonio si è trasformato completamente e vediamo che in alcune zone qui per esempio c'è una zona curiosa dove si sono formate addirittura delle strutture orbate qui c'è diasporo qui c'è diasporo e tutti gli interstizi fra le plume c'è diasporo e qui c'è diasporo quindi questo diasporo si è infiltrato in tutti i capillari di calcedonio che si sono trovati probabilmente in uno stato colloidale a un certo punto e poi nel momento del loro reindurimento le condizioni chimiche erano cambiate per cui c'è stato il passaggio a diasporo un altro materiale curioso che ci dà delle informazioni su questi processi è un materiale molto interessante che proviene dal Messico è stato scoperto alcuni anni fa e ha cambiato nomi spesso e volentieri perché né i minatori né i lapidari che l'hanno lavorato sono stati in grado di capire cosa fosse si tratta di blocchi molto grandi per cui è difficile avere un'idea del complesso cosa sia è stato chiamato Palm Jasper perché ha delle strutture che potrebbero familiare a quelle di una palma fossile però è stato chiamato anche Corral è stato chiamato in varie maniere e non si sa esattamente cosa sia beh se analizziamo in dettaglio ho avuto la fortuna di trovare un campione relativamente piccolo per la norma di questo deposito vediamo che si tratta di una struttura bandata concentrica quindi nonostante l'aspetto sia opaco cioè quello di un diastro questa era un'agata un'agata bandata vediamo che al centro ci sono delle porzioni che potevano essere di quarzo e poi tutto il resto c'ha delle porzioni bandate con la tipica struttura fortificata con un canale di fuga un altro canale canali connettivi diciamo e i giunti fra le fra i domini di cristallizzazione ecco vediamo qui per esempio abbiamo un chiaro giunto fra i domini di cristallizzazione e se guardiamo la struttura a più grande scala vediamo che è una struttura di bande fibrosi calcidonia fibrosa e l'alta percentuale di calcidonia fibrosa sappiamo che è causa della formazione di questi questi giunti fra i domini di cristallizzazione cioè la causa della formazione delle agate fortificate quindi il palm jasper è un'agata fortificata purtroppo era difficile da capire perché i blocchi sono talmente grandi parliamo di blocchi di 20-30 kg per cui in rari casi si può ho visto segato un campione intero che desse l'idea del complesso della struttura completa del blocco però una volta che abbiamo capito di cosa si tratta tutto è chiaro perché le fibre sono quelle di un calcidonia fibrosa cosa è successo a quest'agata? beh chiaramente ci sono stati dei disequilibri anche qui e si è trasformata in qualcosa di opaco che è chiaramente un diaspero probabilmente non tutto questo è diaspero ci sono sicuramente delle porzioni di quarzo forse le parti più bianche però calcidonia ormai non ce n'è più agate che si sono trasformate in diaspero sono più comuni di quello che sembra anche se perdono parte dell'incanto dell'agata e diventano dei blocchi un po' difficili da capire però per esempio questo è un'altra fetta di un'agata trasformata in diaspero e vediamo che nel complesso la disposizione delle strutture è quella di un'agata cioè c'è questa porzione rosa concentrica che era la porzione bandata il quarzo al centro e nella parte basale i muschi sappiamo che questa sequenza avviene nelle agate bandate per una serie di ragioni ben specifici non può venire in qualunque in qualunque oggetto sicuramente non in un diaspero perché sappiamo che il diaspero non si appiccicherebbe al tetto della cavità per cui diventerebbe laminato verso la base quindi questa porzione mi dice chiaramente che questo blocco si è formato come un'agata dopodiché c'è stato disequilibrio l'agata bandata cioè il calcedonio bandato si è trasformato in diaspero cioè questa parte rosa i muschi sono rimasti dove sono e addirittura c'è stata un'abbrecciazione in questa zona secondaria per cui c'è dei frammenti che si sono mossi hanno formato un'abbrecciazione qui si è riformato il calcedonio di nuova generazione queste zone bianche perché come sappiamo il diaspero è soggetto a questo fenomeno di brecciazione e di infiltrazione del calcedonio nelle fratture quindi anche in questo caso abbiamo un'agata che si trasforma in diaspero e poi certe zone di questo diaspero vengono di nuovo riassorbite e danno luogo a delle deformazioni secondarie di calcedonio un'altra volta quindi vediamo anche questo multifase ecco in realtà delle agate che si sono trasformate in diaspero sono abbastanza comuni per esempio quelle di Waldenbach in Germania sono una delle agate più famose credo che sia nella zona di da Robertstein comunque è un deposito molto famoso in Germania e la struttura bandata è concentrica in equivoca per cui queste sono sempre state chiamate agate senza nessun dubbio però evidentemente rispetto alle agate costituiti dal calcedonio trasparente hanno qualcosa di anomalo sono totalmente opache alcuni altri depositi diventano completamente bianchi altri invece diventano di diasporo rosso anche in questo caso queste sono dell'Ungheria vediamo che i muschi sui bordi sono un chiaro indizio di formazione dentro il calcedonio però poi all'interno abbiamo tutta la parte che dove essere il calcedonio sostituita da diasporo opaco cosa gli succede all'agata bandata nel momento che diventa diasporo i processi non sono molto chiari perché abbiamo pochi campioni per spiegare questi passaggi però è chiaro che uno dei primi fenomeni è quello dell'espansione dei centri di colore sappiamo che i centri di colore in genere sono dei puntini microscopici però in alcune agate possono diventare visibili a occhio nudo diventare delle vere e proprie macchie di alcuni millimetri di diametro e queste macchie sono chiaramente opache hanno poco del calcedonio e una parte del calcedonio diventa bianco oppure diventa tutto opaco come in questo caso quali siano esattamente le fasi di passaggio non è chiarissimo però è chiaro che per passare da questo a questo il materiale si deve essere diluito e che la diluzione avviene sui giunti quindi avviene sui piani fra le bande o sui giunti fra i domini di cristallizzazione o addirittura fra i giunti fra una fibra di calcedonio e quell'altra e infatti le trasformazioni del diaspora vengono proprio o lungo le fibre o lungo le bande il disequilibrio può affettare un calcedonio quindi questo calcedonio si discioglie diventa un colloide quando si rindurisce questo calcedonio può rindurirsi come calcedonio o rindurirsi come diaspora dipende dalle condizioni chimiche nel momento in cui diciamo che il materiale polimerizza disidrata e si rindurisce quindi questo fenomeno può essere un rammollimento parziale che mi ha fatto crescere questi dot diciamo però poi il calcedonio ha ricristallizzato come tale oppure può entrare in disequilibrio quindi rammollirsi e poi diventare diaspora quindi non sempre il rammollimento deve per forza passare a diaspora possiamo avere un rammollimento e poi tornare nelle condizioni originali o un rammollimento e un cambio di condizioni un altro materiale un altro campione che mi indica una trasformazione del diaspora in calcedonio è questo tronco che è stato trasformato in calcedonio noi sappiamo che la perminalizzazione del legno avviene per opera di un materiale opalino infatti ci sono tronchi trasformati in opale che poi successivamente diventa diaspora quindi non esiste una trasformazione diretta tra legno e calcedonio infatti se cristallizzasse il calcedonio con le sue fibre la struttura primaria del legno verrebbe distrutta solo il diaspora può mantenere permineralizzando cioè permeando dentro le pareti cellulari del legno e mantenere tutte le strutture delle cellule del legno e una volta che il diaspora ha mantenuto il disegno diciamo degli anelli di crescita del legno allora può entrare in disequilibrio e trasformarsi in calcedonio la maggior parte dei rami di piccole dimensioni che possibilmente si sono trasformati in diaspora in una fase precoce nel momento che diventano si trasformano in calcedonio diventano limb cast cioè diventano completamente trasformati in calcedonio come quello che vediamo qui sui bordi quindi questo è un caso raro in cui ancora ci sono dei relitti nella parte interna degli anelli di crescita del legno se il processo andasse avanti questo sarebbe destinato a diventare tutto calcedonio ecco un'altra pseudomorfosi che mi dimostra i disequilibri che possono avvenire all'interno di un nodulo d'agata è quello delle sagginiti abbiamo visto che le sagginiti sono dei cristalli di altri minerali che vengono inglobati dall'agata bandata e nella maggior parte dei casi sono zeoliti o aragoniti o calciti e mai e poi mai se noi andiamo ad analizzare una sagginita di un'agata troveremo il minerale reale che si formò con quella forma quasi tutte le sagginiti sono pseudomorfiche e trasformate in calcedonio perché il sistema chiuso di un nodulo pieno di calcedonio è talmente aggressivo per cui la silice pseudomorfizza tutti i minerali e tutte le zeoliti in questo caso questi questi grossi pompong erano sicuramente un altro tipo di zeolite però vediamo che oltre a essere pseudomorfizzati come calcedonio hanno subito una trasformazione anche nella struttura vediamo che si sono trasformati praticamente in muschi vediamo che il calcedonio è entrato dentro a queste queste emisfere si è infiltrato e quelli che erano gli aghetti della zeolite sono stati trasformati hanno assorbito probabilmente acqua sono stati trasformati e sono diventati muschi è probabile che gli elementi metallici dello zeoliti che sono anomali nella composizione del calcedonio non riescono ad entrare in soluzione del calcedonio quindi sono ugualmente responsabili dei muschi sono quelli che hanno portato alla formazione di questi muschi nella stessa maniera in cui gli elementi metallici che stanno sui bordi della cavità nella roccia nel basalto nell'andesite nella roccia madre a contatto con la silice del calcedonio creano i muschi e le plume nella stessa maniera queste zeoliti hanno fornito gli elementi metallici per trasformare il calcedonio in muschi quindi abbiamo visto che esiste un fenomeno che è il rammollimento secondario del diaspora e gli elementi che mi dicono che c'è stato questo rammollimento sono la crescita e il movimento dei dots che non sono una struttura tipica del diaspro la la strutturazione delle sferuliti la crescita delle sferuliti bandate che si formano all'interno del calcedonio perché le bande sono appunto di calcedonio e la crescita delle entri tridimensionali che possono crescere in maniera tridimensionale solo se il materiale è allo stato plastico quindi questi tre fenomeni sono indicativi di un rammollimento però in tutti i casi può seguire un cambio della chimica dell'ecosistema per cui il diaspro può passare a calcedonio oppure no quindi non è detto che il rammollimento sia poi seguito a un disequilibrio quindi il diagramma triangolare iniziale lo possiamo completare e da adesso sappiamo che fra diasporo e calcedonio ci sono numerosi passaggi in cui vediamo il cane di arrivare il pan diasporo le agate opache sono calcedonio che diventano diaspori i diaspori che diventano calcedonio quindi in questa maniera si chiude il triangolo l'opale sta al vertice perché da qui discendono sia il diasporo che il calcedonio i camini inversi sono impossibili perché il calcedonio e il diasporo sono materiali molto stabili perché sono in parte cristallini mentre l'opale è molto instabile quindi sempre sarà l'opale a tendere verso il diasporo e verso il calcedonio in un grafico costruito in una maniera diversa abbiamo i materiali instabili in questa zona in alto in cui abbiamo i vetro vulcanico l'opale organogenica e l'opale CT di origine per principio di essere diretta questi tre materiali sono instabili in natura tendono a entrare nel campo di stabilità o del diasporo o del calcedonio tuttavia il campo di stabilità del diasporo e del calcedonio sono comunicanti e si può avere passaggio da un campo a quell'altro il passaggio da un campo a quell'altro avviene sempre per rammollimento cioè una reazione per cui un materiale duro come il vetro vulcanico o l'opale si rammolla e da molle può ricristallizzare come diasporo o come calcedonio allo stesso modo che il calcedonio può rammollare e ricristallizzare come diasporo e viceversa quando si hanno i passaggi di disequilibrio tra diasporo e calcedonio possiamo avere dei termini intermedi che sono molto simili all'opale però siamo sempre nel campo di un colloide per esempio se noi usiamo questo diagramma per definire il percorso la storia del diasporo cerno questa linea tratteggiata gialla mi indica che il diasporo cerno inizia come vetro vulcanico entra in disequilibrio e si trasforma in diasporo a questo punto il diasporo rientra in disequilibrio e si mette nel campo di stabilità del calcedonio dove si formano le sferuliti bandate eccetera addirittura arriviamo nel campo di stabilità del quarzo che qui l'ho messo fuori dal diagramma e poi però anche questo quarzo può rientrare nelle condizioni addirittura di stabilità del diasporo quindi diciamo questo è un po' il diagramma che mi indica la storia evolutiva del diasporo cerno di stabilità le sceglie le sceglie le sceglie